Buonasera mister, la UEFA ha premiato Irving Lozano come migliore in campo questa sera. Volevo un commento sulla sua prestazione e che risorsa rappresenta lui per lei. Lozano ha fatto quegli strappi che soltanto lui sa fare, che è il suo marchio di fabbrica, questa vampata ad ucciderti sulla velocità e sul non farti recuperare un metro quando gli si da palla. Ha fatto molto bene. Poi da un punto di vista di scelte, qualche volta c'è la possibilità di fare anche cose differenti, perché è arrivato due o tre volte sul fondo e ha fatto cross giusto perché abbiamo fatto gol, due o tre volte l'ha fatto sbagliato, quando ha tirato un porta c'erano tre giocatori che arrivavano a sinistra, si poteva gestire diversamente, però poi anche se si possa chiedergli qualche cosa si può anche sbagliare o perlomeno interpretare così, perché poi ha tirato una discreta fiammata anche se gli è andata troppo centrale. Però insomma lui sa fare gol anche quando tira dal limite, ha fatto una grandissima partita anche lui e abbiamo ritrovato la garra del Ciuchi.